Ciao a tutti ragazzi, sono End10001, oggi ci troviamo su Warface Adesso stiamo facendo una partita online ragazzi Prima, siccome non avevo internet, non potevo fare assolutamente niente Ma adesso ho finalmente tornato internet a casa mia, quindi posso fare video normalmente Quindi adesso potrò pubblicare i video in modo regolare, senza più problemi E quindi partiamo, sto giocando l'ingegnere nella mappa di Grand Bazaar Questa mappa a me piace, in alcuni casi faccio tantissime uccisioni Ma in alcuni casi devi stare molto attento ai nemici che sbucono dagli angoli Perché qua è una mappa piena di negozi all'interno e quindi dobbiamo stare attenti Ci riusciremo, ci proverò, vediamo quante uccisioni possiamo fare Ho fatto una partita di riscaldamento prima e mi stava andando un pochino a scatti Spero che adesso si sarà sistemato tutto quanto Finalmente, vediamo, sta andando a scatti ma penso per chi sta ancora caricando la mappa A meno quello che spero, non voglio durante la partita avere lag Comunque qua in alto dice che i server saranno in mantenimento Poi si potrà rigiocare, ma vabbè poi ancora Vedete che è lag? Fami girare questo gioco ha qualche problema anche con la connessione Perché poi cammina tutto solo, è scemo o è un idiota il personaggio Ma credo che sarà tutto per oggi il lag, poi credo che si sistemerà tutto Perché sono sceso, vedete il lag? Si trasforma tutto Quindi stiamo fronteggiando due nemici ragazzi Il lag e i nemici Il lag è cattivo, proprio quello in malvagio assurdo Guardate poi questo qua che campera Guardate qua che camper è un tizio Io metto qui una mina, ma che tanto vengono due milioni Non ammazzalo, ammazzalo Colpo in testa, no ci mancava poco Mi ha fatto tantissimo male Ma vai addosso alla mina a posto di guardarla Faccio addosso, guardate che rimane lì a campera Non guardare la mia mina Finalmente, l'ha capito Dopo un po' di chiacchiericcio Stavo dicendo, vacci Lui diceva, no E poi alla fine ci è andato E meno male, grazie a lui ha fatto un'altra uccisione Ma quanti sono, incredibile Ok, è morta, è morta Vai nell'angolo qua, nasconderti Ok Ma c'è un tizio, aspettate Stanno facendo Sono troppi, sono troppi Ma cosa stanno facendo i miei alleati Vabbè, due in meno ragazzi Ma con chi stiamo combattendo Va bene Quindi alla fine in fondo sono Io e qualche persona a combattere bene Ah c'è un tizio Passiamo di qua, nascondiamoci un attimo Guardate qua Non ci sono riuscito No, ecco qua ragazzi No, 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 no Ricarica Scappa Quanti erano Quello mi prendeva le spalle C'era anche l'elicottero della polizia Non so cosa c'entra la polizia Stanno collaborando assieme ai nemici Mamma mia Ragazzi, questa situazione è molto intrigante Guardate qua Ok, sono riuscito a ucciderlo Perfetto, andiamo di qua Un attimo, mi rifaccio l'armatura Così sembro pieno di vita Ma qui si muore sempre Appena partono Muoiono tutti Che sta succedendo? Aspettate ragazzi Lancia un attimo una granata Lancia Ok No, niente Non c'è nessuno Possiamo andare Possiamo andare No, c'è un tizio Perché non esplosa Punto giusto Ti do l'armatura Aspettami Ma che pazzo Aspettami Ti sto dando l'armatura Meglio che mi aspetti Ecco qua Ok, tutto calmo Non sparano più Ah no, si Continua a sparare Anche molto Con questa pistola Che stai facendo La challenge con la pistola Di tanto tempo Un po' che ho fatto io Ok, ho fatto tantissimo danno Ok, l'ho ucciso L'occasione è un altro Perché Devo capire Che ce ne sono 3000 in una stanza Mai qua Quanti sono i nemici Non lo so Vedete poi Il lag Mi va a scatti Mi ha teletrasportato sotto Volevo fare parkour Saltare bene No, invece no Qua c'è un tizio No, volevo ucciderlo io No, no, no Qui c'è Corri, corri C'è una bomba Maledizione Dai, mori No, ma quanti siete? Ogni volta sono sempre In squadra da 5 Andiamo di qua C'è un tizio C'è un tizio No, no È stato ucciso Sempre lui Guardate, lo vedete? È quel tizio là Che si è teletrasportato Va bene 15-21 Sono secondo Anzi, ragazzi Vabbè, abbiamo perso Non importa Era anche per annunciarvi Soprattutto Che io sono ritornato A pubblicare il video In modo regolare Io mi raccomando Lasciate un mi piace Iscrivetevi Attivando la campanella E ciao Ciao, ciao